Ciao, sono Flavia Gentile, ho 23 anni, ho conosciuto Corso Base di Fotografia perché conoscevo già il mio professore e lo vedevo spesso condividere i lavori degli altri corsisti. Ho imparato da questo corso ad avere una prospettiva diversa rispetto a quello che guardo, ad osservare, quello che mi circonda. Ho avuto l'esperienza di Corso Base di Fotografia.it molto positivamente. Mi ha insegnato cose che non sapevo prima, ad approfondire altri aspetti che già conoscevo solo superficialmente. Consiglierei ad altri amici o parenti di Corso Base di Fotografia perché appunto si sta insieme ad altri ragazzi che sono al tuo stesso livello di conoscenza rispetto alla fotografia. Crescendo insieme è una bella esperienza da portare avanti.